Bentornati amici di Socialintech, eccoci ad una nuova puntata dell'Angolo di Federico. Mi scuso per non essere stato puntuale la scorsa settimana per il podcast, però eccomi qua per recuperare. E recuperiamo con un po' di notizie in merito alla conferenza Apple soprattutto e poi qualche rumors sui nuovi ipotetici iPhone 15. Ma andiamo subito su quello che è il prodotto di punta della conferenza di Apple, ossia del visore, del famoso Apple Vision Pro. Ebbene, questo prodotto ha sicuramente creato molta suspense e a quanto pare attraverso un primo developer beta di quello che è il sistema operativo che si chiama Vision OS, a quanto pare vi sono già ben oltre 20 applicazioni native, ma tra queste manca la tanto aspettata calcolatrice o quantomeno un'applicazione talmente semplice che in realtà non riusciamo ancora adesso ad avere su iPad, almeno nativamente, e a quanto pare nemmeno su Vision OS, quindi sul sistema operativo del nuovo Vision Pro, quindi del visore della Apple. A quanto pare ci saranno le applicazioni di contatti, file, home, calendario, mappe, messaggi, comandi, salute, promemoria, Siri, anche. L'applicazione dov'è? Ovviamente quella di impostazioni, di foto, wallet, Apple News, Safari e anche altre. Ovviamente sono integrate anche altre applicazioni come quelle di test flight, adesivi animoji, di batteria, app famiglia, trova il mio telecomando, il print center, il quick lock, il sidecar, insomma tante applicazioni per questa beta di questo nuovo prodotto e in particolare del suo software Vision OS. Un prodotto che però ha portato sicuramente dei punti interrogativi per chi ovviamente non ha una vista acutissima e ha la necessità di avere delle lenti, quindi degli occhiali. In questo caso vi sono anche da parte di questo prodotto, quindi per la Apple, che in questo caso ha adottato anche per chi non ha una vista perfetta, la possibilità di introdurre delle lenti, delle lenti di Zeiss che a quanto pare potrebbero costare tra i 300 e i 600 dollari, forse anche qualcosa di più. Almeno questo è quanto è un attimino considerato da parte delle voci di Mark Gurman di Blomberg che poi comunque sono state bene o male confermate, quindi avremo anche la possibilità per chi possiede degli occhiali o per chi ha bisogno comunque delle lenti di avere queste lenti Zeiss. In ogni caso per quanto riguarda invece dei dettagli su questo Vision Pro si parlerebbe anche di un pacco batteria esterno. Infatti abbiamo già visto quello che sarà l'alimentatore esterno, questo battery pack collegato che potremo andare ad attaccare a cascata, che ha un alimentatore USB-C tradizionale. In questo caso significa che almeno al momento non è possibile semplicemente sostituire il Power Bank di Vision Pro con uno più grande, ma esclusivamente c'è questo battery pack disponibile che sembra un po' un iPod da quello che avevano dichiarato o quantomeno scusate per quello che avevamo visto e per quello che si è un pochino appurare in merito. Quindi questa è un'altra piccola novità e diciamo c'è anche stato qualche piccolo riferimento a questo Optic ID, quindi il fatto proprio del riconoscimento del bulbo oculare, quindi una nuova tecnologia di autentificazione biometrica studiata appositamente proprio per questo dispositivo. Si basa sulla scansione dell'iride, sfruttando le videocamere rivolte verso l'interno che si occupano anche del tracking dell'occhio. Non è certo la prima volta che vediamo questa tecnologia sul mercato, però Apple tuttavia lascia intendere che la sua implementazione sia particolarmente ben rifinita e precisa e addirittura in grado di distinguere tra gemelli o mozigoti, quindi una cosa decisamente interessante. Ci sono state anche delle opinioni per chi ha provato questo Vision Pro che costerà 3.499 dollari e si parlerebbe dell'inizio del prossimo anno solo ed esclusivamente negli Stati Uniti. Abbiamo parlato di queste lenti prodotte da Zeiss, lenti graduate che si agganciano magneticamente al visore e saranno vendute separatamente, però per quelli che sono le varie testate giornalistiche, The Verge ha dichiarato che si tratta di un dispositivo decisamente migliore rispetto a qualsiasi altro visore AR o VR che abbiamo visto. Vision Pro non è così totalmente colvongente come vorrebbe far credere i video di marketing, queste sono un attimo le sue considerazioni. Per esempio, Knet dichiara che il visore per quanto riguarda la visione pass-through è buona, davvero, davvero buona. Engadget dichiara che è senza dubbio la migliore esperienza di realtà mista che abbia mai avuto, che ha offerto un senso di immersione senza precedenti, display abbastanza nitidi da leggere il testo sui siti web e un'interfaccia utente intuitiva basata sui gesti. Eppure è ancora, in definitiva, un auricolare VR con molti dei problemi endemici dell'intera categoria. Queste sono, diciamo, le grandi testate che hanno dato la loro opinione. Sicuramente un prodotto davvero molto, molto interessante che però, diciamo, avrà anche i suoi limiti come ovviamente possono avere dei prodotti di questo tipo che al momento una copia, diciamo, di questi prodotti come quello della Sony o quello di Google hanno riscontrato, cioè la difficoltà, intanto un costo comunque alto anche se quelli sono più economici, però la difficoltà di avere una vera e propria necessità di un prodotto del genere. Vado un attimo indietro, sempre alla conferenza, parlando di macOS Sonoma che non avevo dato quelli che sono i Mac compatibili. Si parlerebbe del iMac 2019 versioni successive, iMac Pro 2017, MacBook Air 2018 in su, MacBook Pro 2018 in su, il Mac Pro 2019, Mac Studio 2022, Mac Mini 2018 e ovviamente tutti successivi. Per quanto riguarda invece WatchOS 10 abbiamo invece in questo caso a livello di compatibilità abbiamo WatchOS serie 4, 5, 6, 7, 8 e Ultra ovviamente. Poi per quanto riguarda invece quelli che possono essere i nuovi risultati dei benchmark di M2 Ultra a quanto pare si parlerebbe di prestazioni ancora migliorate. In questo caso si tratta di dispositivi davvero incredibili, Mac Pro con chip Apple Silicon è in pratica due volte più veloce del precedente Mac Pro, più veloce con processore Intel Xeon V28 Core. Presentando il MacBook Pro con CPU Apple Silicon nel keynote della WWDC 2023, la casa di copertino aveva riferito genericamente che la nuova macchina rende fino a tre volte più veloce i flussi di lavoro professionali, più impegnativi come la trascodifica video e le simulazioni in 3D. Quindi la sostanziale differenza tra il Mac Pro e il Mac Studio sono gli slot PCIe presenti nel primo Mac Pro. È dotato di 7 slot di espansione PCIe che potrebbero essere uniti, utili scusate, in determinati ambiti nei quali è necessario particolari schede. Diciamo che, insomma, questo MacBook che è stato presentato, l'Air da 15 pollici, presenta un grande schermo ma anche un grande valore. The Verge dichiara nessuna sorpresa, nessun, diciamo, sensore di shock. È un buon prodotto funzionale che le persone hanno gridato per anni che lo volevano. C-Net dichiara un grande schermo che sicuramente molti di noi cerchiamo. Supera già i requisiti tutti tranne i professionisti creativi più seri, ovviamente però si tratta di un dispositivo davvero molto, molto ricercato e molto interessante. N-Gadget dichiara che Apple ha semplicemente preso il design negli interni dell'Air con potenza M2 che ha annunciato un anno fa e l'ha infilato in una custodia più grande con un schermo più grande. Quindi, diciamo, una macchina che tutti si aspettavano, ha finalmente arrivato, sottilissima, performante, ma che aspettavamo da tanto tempo, per cui effettivamente l'iPhone non ha fatto altro che esaudire i nostri desideri. Per quanto riguarda, invece, diciamo iOS 17, una novità che non vi avevo detto, perché ovviamente con le beta si stanno ampliando quelle che sono le funzioni che non sono state presentate alla WWDC del 2023, ebbene si parlerebbe di Siri che può essere l'applicazione predefinita di messaggistica impostata da utilizzare con Siri. Per quanto riguarda, invece, vado veloce, scusatemi ragazzi, per quanto riguarda iPhone 15 Pro, parlerebbero di un Apple che si aspetta una domanda davvero molto, molto forte. Per quanto riguarda dei rendering per delle custodie che sono state trovate in rete, si parlerebbe di un iPhone 15 che non stravolgerà il design rispetto al suo predecessore, è vero tuttavia che sono attesi diversi affinamenti. Infatti, la versione Pro dello smartphone di copertino portano, in base ad una serie di immagini, infatti di queste cover, che il modello attuale di iPhone 14 Pro e l'altra destinata al modello in arrivo realizzato sulla base del mio capo messo a disposizione, comporterebbe delle piccolissime modifiche. Ebbene, dalle foto si osserva un tasto di accensione e il bilanciere del volume che saranno leggermente spostati verso il basso, mentre il taglio in corrispondenza della porta USB-C, che va a sostituire quella Lightning, risulta essere più grande. Altre varianti è il tasto per silenziare lo smartphone, che sostituisce lo switch. In questo caso non vi è più il foro come in quello precedente, ma a quanto pare c'è un tasto da cliccare, che sarebbe poi personalizzabile dall'utente. Altre immagini raffigurano le cover nella colorazione nera, in cui si vincono le dimensioni più generose per quanto riguardano gli obiettivi delle fotocamere rispetto alla generazione attuale, così come quella del microfono. Infatti abbiamo il foro per il bilanciere del volume che si era ipotizzato un tasto unico capacitivo, tuttavia stando all'ultima discrezione sembra che per questa variazione si dovrà ancora attendere. Per cui ragazzi, è stato un podcast sicuramente lungo, c'erano state tante novità, tanti rumors, anche se vi hanno accenato qualcuno, ma le novità sono state più che altro nei riguardi del visore, e vi aspetto quindi tra due settimane, sperando di riuscirci, con anche un'applicazione nuova che ho provato, davvero molto molto carina, per iPhone ed iPad. Quindi ragazzi, vi lascio a queste settimane, a questi weekend, quindi un augurio di buona settimana, buon weekend da Federico e da Socialintech. Ciao!